Ovuli di Ashish è anche un robot da cucina tra i sequestri dei carabinieri della stazione di Scampia. Il quartiere napoletano ritorna prepotentemente nella lente dei controlli antidroga dei carabinieri della compagnia Napoli Stella che hanno setacciato la zona senza trascurare alcun particolare. Durante le perquisizioni volte al contrasto delle piazze di spaccio insieme alla compagnia di intervento operativo del reggimento Campania i carabinieri hanno notato una Seat Leon. L'auto parcheggiata nella traversa Primo e Polito era stata cancellata da Praha e i militari hanno deciso di controllarla. Nel cofano rinvenuti e sequestrati 4,5 kg di Ashish suddivisa in diversi panetti, 50 grammi di cocaina, molti ovuli di Ashish e decine di dosi di marijuana. Nell'auto che si è rivelata un vero e proprio deposito anche tre pistole, due revolver Magnum e una 35 mm con sei cartucce per ogni arma che sono risultate rubate. Nell'auto anche 229 cartucce di vari calibri, un dissuasore elettrico da 5.000 volt, 7 bottiglie di metadone, due bilancini di precisione, una macchina contasoldi e diverso materiale per il confezionamento della droga. I carabinieri però non si sono fermati all'auto e hanno setacciato le diverse baracche box in stato di abbandono lì vicino dove sono stati rinvenuti e sequestrati 8 coltelli di diverse misure, altre decine di dosi tra Ashish e marijuana, 10 cellulari e un robot da cucina verosimilmente utilizzato per preparare la sostanza stupefacente. Le indagini continuano con le armi che saranno sottoposte ad accettamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo infatti di sangue o altri delitti.